Intervento dei carabinieri su un soggetto super pericoloso che è andato a speronare la macchina della polizia locale a Treviso e poi ha speronato anche quella dei carabinieri che hanno dovuto poi fermarlo con l'utilizzo del taser, si è rivelato che poi era anche armato questo tizio, insomma intervento assolutamente da vedere insieme. Sono Manuel Spadaccini e ho fatto della difesa personale il mio lavoro. Grazie alla mia esperienza nell'arma dei carabinieri e poi all'estero ho capito che per difendersi non serve solo muovere le mani, ma occorre saper usare la testa prima dei muscoli. Come fare? Te lo spiego in questo canale. Benvenuto nella difesa personale e professionale. Stay safe! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video voglio portare a voi un'analisi di questo intervento dell'arma dei carabinieri a Treviso su un soggetto molto particolare che appunto può mostrarci diversi elementi e vorrei appunto condividerli con voi. So che vi state chiedendo cosa è successo al braccio, lo so. Allora perché non mi seguite su Instagram? Chi mi segue su Instagram lo sa che cosa mi è successo. Comunque voglio che vi concentrate adesso sul video e poi magari alla fine vi racconto del mio infortunio piuttosto serio. Comunque dai andiamo a parlare di questo intervento. Prima di iniziare però vi ricordo piazzate un bel like sulla fiducia sono sicuro che non ve ne pentirete. Dunque andiamo a vedere è il 9 ottobre 2024 ovviamente a Silea un paesino in provincia di Treviso c'è una pattuglia della polizia locale che in servizio si sta spostando tranquillamente viene superata a folle velocità da una Opel GT nera a manetta e ovviamente provano a fermarlo ma questo non ne vuole sapere anzi aumenta ancora di più la fuga e finisce per arrivare persino a Treviso quindi proprio in città dove durante questa fuga prova a speronare addirittura la macchina della polizia locale e se non sbaglio c'è proprio riuscito quindi va a speronare l'auto e subentra quindi anche il radiomobile della Mara dei Carabinieri quindi anche i carabinieri si pongono in seguimento cercando di fermare questa Opel GT lanciata a folle velocità in mezzo alla città e che riusciranno a fermare ma saranno speronati anche loro quindi avete capito che questo conducente che si rivelerà poi anche armato di bastoni e coltelli è una persona piuttosto particolare. Ovviamente il tizio non ne vuole sapere di scendere vedremo tra poco nell'intervento che sarà costretto con arma da fuoco a arrendersi anche se poi non si arrenderà subito e quantomeno a scendere dall'auto quindi vedremo anche un'estrazione un'arma da fuoco vedremo anche un comportamento a brevissimo degli agenti vi parlerò di triangolazioni vedremo anche l'utilizzo del taser vedremo anche dei movimenti particolari che sono sicuro che se avete già visto questo video non ci avete fatto caso ed eccola qui la Opel GT bloccata dall'arma dei carabinieri vedremo tra poco che è incidentata nella parte anteriore proprio perché ha provato a speronare sia la polizia locale che i carabinieri e poi è andata anche a schiantarsi per poi essere bloccata in questa posizione. Come vediamo il primo operatore dell'arma è già fiondato al finestrino del conducente che non ne vuole sapere di fermarsi vedete che tende comunque a muoversi ancora la macchina e allora ecco necessario il fatto di utilizzare l'arma da fuoco quindi estratta l'arma da fuoco puntata verso il conducente come per dirgli fermati ora adesso la pianti non andare oltre più di così perché altrimenti diventano cose serie. Quando mostrato questo video nelle storie del mio profilo instagram qualcuno di voi mi ha scritto ma ma non è necessario addirittura un'arma da fuoco puntata in quel modo ma non poteva semplicemente intimare di fermarsi a quanto pare no perché se non si è fermato per strada all'alte addirittura tentando di speronare le auto delle forze dell'ordine figuriamoci se adesso questo qui si arrende immediatamente in questo modo occorre qualcosa per alzare il livello ed essere diciamo un po più convincenti no? Ed ecco qui la funzione dell'arma estratta che ha una duplice motivazione di essere in quella posizione la prima è che serve da deterrente ossia come per dire basta fermati guarda che qui adesso non scherziamo più e poi anche una funzione ovviamente di protezione dell'operatore stesso perché immaginate voi ad affacciarvi a un finestrino quando la persona ha provato a buttarvi fuori strada quindi si è dimostrata senza scrupoli e magari vi ritrovate la persona che ha un'arma puntata verso di voi non sapeva l'operatore che cosa avrebbe trovato quindi assolutamente corretto a scopo difensivo approcciare al veicolo con l'arma estratta e puntata perché poi non c'è il tempo di alzare l'arma prendere la mira se questo già pronto a farci fuoco quindi non sapendo che cosa avrebbe trovato l'operatore si assicura quindi si protegge e dice io arrivo lì davanti ma mi preparo al peggio quindi giustissimo il fatto di avere l'arma puntata per verificare che quantomeno le mani di questo criminale alla guida fossero libere da delle armi ok quindi benissimo il primo approccio arma puntata vediamo come la situazione abbiamo anche visto però che quest'arma rimane puntata per un brevissimo tempo quindi buono lavoro dell'operatore che ha capito dice ok non è armato allora adesso passiamo alla sequenza successiva vediamo di farlo scendere quindi l'arma a questa funzione adesso di convincimento al criminale di eseguire gli ordini imposti cioè scendi scendi l'arma se fate caso non è più puntata non serve più perché è stata mostrata quindi l'operatore ha spiegato che il livello si è alzato ed è pronto al combattimento e poi ha verificato sempre lui che non c'è un pericolo immediato per la propria incorumità e quindi guardate bene che cosa fa nel momento in cui il soggetto si arrende apparentemente e scende dall'auto lui si sposta dal lato corretto della portiera quindi non sta dalla parte del muso perché non vedrebbe le gambe non vedrebbe le mani non vedrebbe niente del soggetto in fuga ma mettendosi dal lato corretto della portiera può osservare tutto ciò che sta nell'abitacolo al momento che scende il criminale lui si pone con l'arma bassa e poi dal lato appunto più lontano del criminale quindi vedete che lui è orientato inclinandosi il lato sinistro dell'operatore è quello che serve per governare per tenere la portiera per rafferrare il soggetto ma al lato destro sia quello che ha l'arma da fuoco impugnata è posizionato nella posizione più distante più sicura quindi è molto apprezzabile il movimento del carabiniere perché dopo che ha utilizzato l'arma come deterrente per propria sicurezza la mette in una posizione sicura ok in modo da proteggerla da un eventuale tentativo di sottrazione o quello che sia osserviamo anche quanto sia stato perfetto l'operatore nel maneggio dell'arma che ha visto tutto il tempo il dito indice lungo il fusto quindi lungo il fusto dell'arma e non sul grilletto sappiamo infatti che il dito sul grilletto va messo solo nel momento in cui si decide di fare fuoco ma in tutti gli altri momenti in cui la pistola è estratta il dito rimane lungo il fusto ossia allungato lungo la canna diciamo così il fusto dell'arma e questo lo riconosciamo bene da questo frame vedete eccolo qui si capisce bene che il dito è lungo il fusto ed è stato lì per tutto il tempo dell'operazione finché l'arma poi ovviamente verrà rimessa in fondina quindi bello lavoro preciso dell'operatore sa esattamente che cosa sta facendo non sta improvvisando ma sotto controllo ogni suo gesto il criminale è sceso e di conseguenza l'operatore mantiene una distanza di sicurezza e guardatelo qui come si fa a non apprezzare questo arretramento di punta tacco lo vediamo bene vedete la punta striscia e poi appoggia al tacco e l'altro piede la punta striscia appoggia al tacco questo movimento di arretramento è assolutamente professionale è un movimento che serve per evitare di inciampare quando appunto abbiamo il focus davanti a noi quindi non possiamo guardarci dietro e non conosciamo bene cosa abbiamo alle spalle di conseguenza potrebbe esserci un tombino rialzato un porfido disconnesso quindi o qualsiasi ostacolo che potrebbe far cadere l'operatore per questo si adotta questo movimento di punta tacco ossia la punta striscia e poi solo dopo il tacco appoggia se infatti dovessimo far strisciare il piede piatto alla prima imperfezione si rischierebbe di cadere e dato che non ci si può permettere una caduta quando abbiamo un soggetto stile di tale calibro occorre saper anche indietreggiare nella maniera corretta lo rivediamo eccolo qui va indietro guardate i passi punta tacco perfetti quindi l'operatore va a riporre l'arma in fondina ha capito che non serve più e tra un attimo vi spiegherò anche il perché e di conseguenza prende distanza punta tacco arma in fondina top perché non serve più l'arma adesso beh abbiamo visto che il soggetto è disarmato quindi non ci sono i presupposti per fare fuoco anche se in instagram mi avete scritto manuel però doveva fare fuoco perché il criminale stava avanzando contro di lui non è possibile ho fatto anche un video in merito a questo discorso di quando un operatore fa fuoco perché non fanno fuoco ve lo lascio qui e andatelo a vedere perché ne vale davvero la pena comunque non ci sono i presupposti per fare fuoco appunto perché la minaccia non è tale da giustificare l'utilizzo di un'arma letale non c'è una proporzionalità inoltre possiamo ben capire che non è il luogo è il momento quello di fare fuoco comunque perché prima di fare fuoco una delle regole importanti per l'operatore è di controllare ciò che sta di fianco e dietro il target perché siamo umani un target può essere mancato di conseguenza i colpi possono andare a impattare dietro oppure può essere anche perforato trapassato e ancora una volta il problema si presenta chi sta dietro e come vedete dietro ci sono delle auto in coda ci sono dei cittadini quindi non è il momento di fare fuoco in nessun caso per cui benissimo l'operatore che ancora una volta vi ricordo ha usato l'arma per deterrente a una reazione a una successiva fuga ancora in macchina del criminale e per una propria protezione ma puntandola nell'abitacolo dopodiché l'obiettivo era prendo distanza metto in fondina un altro motivo per cui ormai l'arma non serve più è perché è arrivato il collega eccolo di qua ha fatto un giro più largo e quindi ci ha messo un po di più ad arrivare però ecco che adesso gli operatori sono entrambi sul problema qualcuno sempre sul mio profilo instagram mi scrive manuel però la triangolazione e qui l'hanno sbagliata perché vedi che uno contro l'altro allora ragazzi la triangolazione ne ho parlato anche in altri video è un elemento importante del lavoro in team ossia nel caso di fuoco ok nessun operatore deve trovarsi in linea col fuoco del collega di conseguenza si crea un effetto triangolo dove non c'è mai il collega dietro il soggetto criminale però abbiamo anche capito che comunque non è il posto per fare fuoco perché vi ho spiegato che ci sono i cittadini dietro e poi la situazione richiede proprio questo posizionamento perché come vedete hanno bloccato la via di fuga in una direzione o nell'altra del soggetto che poteva mettersi a scappare a piedi quindi se entrambi gli operatori si fossero posizionati da un lato dall'altro avrebbero quasi incentivato il fuggitivo a scappare dal lato opposto chiaro quindi hanno dovuto per forza chiuderlo sui due lati e vedete che è chiuso in una scatola perché c'è la parete da un lato l'auto dall'altra e davanti e dietro ci sono i due carabinieri quindi hanno fatto un movimento perfetto hanno scelto bene di posizionarsi in quel modo ed eccolo qui un altro motivo per cui è stata riposta l'arma in fondina abbiamo detto che non era proporzionata al problema non c'è una minaccia letale alla propria vita che può giustificare l'esplosione dei colpi di pistola ed è per questo che si attiva il collega con taser ecco che allora la proporzionalità ci può già più essere il taser può fermare un soggetto quando appunto un'arma da fuoco risulterebbe eccessiva e infatti il collega guardate qui questa strategia che sono sicuro che non avete notato guardate qui il collega che aveva l'attenzione del criminale era quello con l'arma da fuoco estratta il primo che è arrivato ma al momento che arriva il secondo guardate la sinfonia dei movimenti e il feeling che c'è tra questi due colleghi il primo operatore non parla più chi sta parlando esatto sta parlando l'operatore con il taser allo scopo di richiamare su di sé l'attenzione e infatti da che lato si gira il soggetto stile esatto si gira verso l'operatore con il taser e gli va incontro esattamente quello che l'operatore vuole perché a questo punto lui riceve una minaccia che gli consente di andare a tirare il grilletto del taser vedete quindi quanto è importante quale operatore prende l'attenzione del soggetto criminale non è una cosa scontata è una cosa che insegno appunto ai miei lievi nelle forze dell'ordine perché può fare la differenza l'operatore deve essere consapevole che solo uno tra tutti i colleghi è incaricato di parlare col soggetto e c'è sempre un motivo parlo io perché parli tu perché mai parlano tutti insieme quindi hanno portato il criminale a prestare attenzione dove volevano loro verso l'operatore con il taser il quale tra l'altro ha avuto la necessità di tirare due volte il grilletto perché se ci fate caso c'è una prima esplosione e poi una seconda avete sentita andiamo a rivedere ecco qua che cosa significa che il taser sappiamo se non sapete vi lascio qui il video andate a vedere per come funziona il taser che è molto interessante il taser riesce a far passare la scarica elettrica all'interno del soggetto quando almeno due dardi sono conficcati nel corpo è probabile ora io non ero lì sul posto non si capisce benissimo ma secondo la mia esperienza che uno dei due dardi o abbia mancato il bersaglio quindi magari sia andato a vuoto oppure vedendo questo giubbotto così questo piumino imbottito che ha il criminale possa essersi conficcato sì ma non nel corpo sia rimasto conficcato solo nel vestiario purtroppo con i giubbotti spessi può succedere perché l'uncino del taser l'arpione è solo di pochi centimetri e di conseguenza non passa la scarica elettrica tra i due dardi e allora è stato necessario un secondo colpo quindi ha tirato il grilletto una seconda volta e quindi il taser ha potuto funzionare perché almeno due dardi erano al loro posto andiamo a rivedere la scena vedete il primo colpo ed ecco il secondo si sente è stato anche subito brillante l'operatore perché non è che ci ha messo tanto per capire che non stava funzionando quindi complimenti perché ha reagito sul pezzo subito bravo lo so che ogni volta che qualcuno vede utilizzare il taser ha questa domanda manuel però se questo soggetto ha dei problemi cardiaci e muore cosa succede ragazzi a un operatore deve importare solo che lo strumento che lui sta usando sia a norma dopodiché conoscere la cartella clinica di tutti i criminali non è compito dagli operatori se loro utilizzano uno strumento tarato a norma non è alcun tipo di problema l'importante è utilizzarlo nelle condizioni in cui la situazione lo richiede ovviamente no ma questa condizione vedendo l'estrema ostilità del soggetto e anche una certa fisicità perché come vedete non è certo un ragazzino da 40 kg tra l'altro si scoprirà che questo è un ragazzo di origini ganesi strutturato perché era un istruttore di fitness che fa anche sicurezza in un supermercato e forse anche il barman comunque diciamo che se dovendo affrontare potrebbe non essere così semplice un'altra osservazione che potreste fare quella di dire manuel ma la procedura di urlare tre volte taser 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 prima di tirare il grilletto non è stata rispettata non in questo caso però la procedura prevede che nel caso non ci sia il tempo materiale di poterlo fare perché magari è dettato da una distanza estremamente ravvicinata come ad esempio in questo caso oppure dalla pericolosità concreta immediata che il soggetto possa saltare addosso all'operatore quindi chiudere la distanza in brevissimo tempo può essere considerato di tirare il grilletto del taser senza fare il lavoro da manuale con la sequenza parlata perché appunto o facciamo la sequenza e ci aggrediscono o portiamo a casa il risultato però se fate caso l'operatore ha detto chiaramente fermati fermati mettiti giù mettiti giù quindi ha espresso chiaramente come la procedura l'ordine che il soggetto deve rispettare al non rispetto di quest'ordine e quindi alla dimostrazione di un'ostilità concreta e attuale di una distanza estremamente vicina ravvicinata allora ci può stare di andare subito a tirare il grilletto perché non c'è tempo di fare altro quindi devo dire che anche nell'utilizzo del taser è stato fatto un ottimo lavoro da manuale quindi bravissimo l'operatore e quindi come va a finire questo intervento beh allora il ragazzo viene fermato lì si troverà in macchina un mattone una mazza un coltello si andrà anche capire perché Prince Ajamang Sasaraku questo è il nome del 33enne è stato processato per direttissima e appunto gli sono stati contestati vari reati come lesioni danneggiamento resistenza pubblico ufficiale porto abusivo di oggetti atti a non offendere perché non rientrano nella categoria degli oggetti atti a offendere insomma ed è stato messo agli arresti domiciliari la prossima udienza del suo processo è prevista per il 27 di novembre è stato anche chiamato l'intervento del cane antidroga Luke che appunto ricercato all'interno del veicolo se c'era traccia o presenza di sostanze stupefacenti ma non sono state rinvenute quindi se vi è piaciuto l'intervento di questi nostri operatori forza dell'ordine fateglielo sapere piazzate un bel like perché sono sicuro che poi si passeranno questo video tra colleghi e loro lo vedranno quindi se volete anche lasciargli un commento sono sicuro che lo leggeranno se volete lasciare la vostra opinione anche proprio cosa avreste fatto voi cosa è stato fatto di giusto e di sbagliato insomma costruiamo come sempre la nostra community perché a me interessa sentire il parere di tutti ripeto iscrivetevi al canale attivate le notifiche con la campanella e lasciate appunto un like se vi è piaciuto l'intervento e se gradite video di questo tipo io vi ringrazio noi ci vediamo ah non vi ho detto perché cosa mi è successo al braccio è vero allora mentre stavo insegnando durante il corso di aggiornamento degli istruttori KMA perché ogni mese tutti gli istruttori d'italia arrivano in palestra e si allenano con me stavo facendo un movimento di una lotta a terra e durante una trazione mentre trazionava un istruttore al collo per portarlo verso di me ho sentito uno strap qualcosa di strano interno del braccio in sostanza mi si è spezzato il tendine del bicipite il bicipite mi è risalito e mi hanno messo una medicazione provvisoria che è questa che vedete e domani sarò operato al mio braccio destro perché appunto vorrei che tornasse come prima comunque se volete anche commentare questa cosa scrivetelo nei commenti a me fa piacere e niente quindi se volete sapere anche come andrà avanti il post operatorio eccetera perché ne avrò per un po di mesi seguitemi su instagram perché io li racconto un po la mia vita e tutti i giorni metto nelle storie un po di consigli info eccetera eccetera tornando a noi vi ringrazio ci vediamo lunedì prossimo sempre qui sul canale 1345 nuovo video la difesa personale professionale e stessi e